Buonasera a tutti. Permettetemi di ringraziare il Presidente della Biennale, Roberto Cicutto, tutto il personale della Biennale che ha accolto, anzi devo dire proposto, che questa nuova opera Treccani, dedicata all'arte contemporanea, venisse presentata in uno spazio così importante, oltre che così bello, suggestivo. Noi di Treccani siamo davvero molto orgogliosi di poter avvicinare il nostro nome e il nostro lavoro a quello della Biennale. Sono due storie parallele che si intersecano nelle loro missioni, ma anche in molti degli intellettuali, delle donne e degli uomini che hanno fatto queste due istituzioni. Voglio ringraziare anzitutto due dei direttori di quest'opera, che sono Valeria Della Valle e Vincenzo Trione, che hanno favorito insieme al mondo della redazione Treccani. Anche qui voglio ringraziare Ilaria Giaccio che è in sala, Giovanna Fazzuoli e Jacopo Sceni, oltre alle due capore di attrici, Loredana Lucchietti e Monica Trecca, al responsabile Treccani del mondo dell'editoria, che è Gerardo Casale, hanno permesso, dicevo, la pubblicazione di quest'opera, che, come ho detto anche questa mattina, più che un'enciclopedia, è un vero e proprio cantiere della contemporaneità. Un cantiere che cerca di indagare i linguaggi e le forme della contemporaneità, lo fa con quel rigore Treccani che ci ha un po' abituato e forse a cui siamo un po' disabituati rispetto alla produzione di opere, di manufatti così imponenti. L'opera è costituita da quattro volumi, ha circa 3.600 voci, 4.000 immagini. È un'opera che ha visto una grande gestazione nella definizione di quello che per chi lavora intorno a una grande opera come questa è la definizione di un lemmario, cioè di quel corpus iniziale in cui ci si sperimenta per definire quelle che saranno tutte le singole voci. Per chi come me, in Treccani da molti anni, è davvero un grande piacere, un grande onore presentare quest'opera. Fa parte di una lunga tradizione di impegno di Treccani nel mondo dell'arte. Valere della Valle stamattina ha ricordato che di arte in Treccani si parla più o meno negli stessi anni in cui Giovanni Gentile immagina la realizzazione della grande enciclopedia. Nulla è casuale in quel progetto. Uno dei temi fondamentali era appunto la tutela dei caratteri identitari del nostro Paese. In questi caratteri identitari Gentile individua appunto l'arte, il paesaggio e le biografie della nazione. Saranno alcune delle linee guida delle opere che in quasi cento anni verranno realizzate. Dall'arte antica all'opera monumentale su Pompei, all'arte mediovale, all'archeologica, alla collana sui pittori, quella sui luoghi d'arte, a quella sui palazzi d'Italia, a quello sulle regioni e l'arte italiana. Devo dire che questo impegno è continuato anche riprendendo una tradizione che portiamo avanti nella riproduzione di manoscritti antichi. Inizia ancora una volta con Giovanni Gentile, con la riproduzione della Bibbia di Borso d'Este. In questi giorni pubblichiamo uno dei manoscritti più importanti e più difficili da realizzare che è un manoscritto della Divina Commedia conservato a Oxford, alla Baudelaire, una biblioteca con cui abbiamo un accordo per portare alla luce alcuni dei tesori realizzati nelle botteghe italiane. Un'enciclopedia. Non era facile immaginare nel XXI secolo una grande enciclopedia come questa dedicata all'arte contemporanea, perché insomma le enciclopedie sono passate, dicevo anche questa mattina, un po' troppo facilmente di moda. Però crediamo che questa capacità di fare sintesi dei saperi, che riprendo ancora una volta da gentile e in prestito la definizione di questo sforzo, possa essere utile soprattutto ad un tema caro come quello dell'arte contemporanea. Nel 2013, in un altro ruolo, ho avuto il grande piacere, la grande fortuna, di incontrare Massimiliano Gioni, che mi veniva a raccontare il suo progetto di biennale. E a un certo punto mi parlò di questa idea, appunto, di un palazzo enciclopedico che riprendeva un po' quest'utopia di questo artista italo-americano, Marino Auriti. E io pensavo che lo facesse quasi in onore alla mia esperienza treccaniana, ma non era così, come mi spiegò amabilmente. Era appunto un progetto, un catalogo della contemporaneità, come mi spiegò, ma anche un grande archivio della contemporaneità, in un momento nel quale, secondo Gioni, era sempre più necessario avere dei punti fermi rispetto al mondo della contemporaneità. Io ricordo che a questo punto interruppi Massimiliano dicendo beh, è un'enciclopedia, quindi. Sono contento che Vincenzo Trione, per primo, ma, insomma, chi vedrete, insomma, veramente un comitato scientifico di personalità di grandissimo valore, e, come dire, la presenza di Valeria della Valle, che rappresenta un po' questa comunità treccani nel suo modo di lavorare, di immaginare e realizzare un'opera, credo siano riusciti nel definire questi intenti e realizzare un'opera importante. Abbiamo davvero molto piacere che a questa presentazione partecipino Melania Mazzucco, Stefano Bartezzaghi, Maurizio Ferraris e Francesco Vezzoli. Li ringrazio, è davvero un onore per noi che, come dire, è la prima di questa opera, che è un po' come una grande prova di orchestra, realizzare un'enciclopedia, forse la cosa che più l'avvicina è davvero realizzare una grande opera. Una grande opera in cui, una volta, appunto, ne discutevo con Sabatino Moscati, altro grandissimo collaboratore dell'enciclopedia, di un'enciclopedia mi disse vedrai affiorare sempre l'iceberg, la punta di questo iceberg, ma la grandezza di quest'opera rimarrà sommersa e non si saprà probabilmente mai quanti e di che grande qualità siano stati i redattori e le redattrici che sono riusciti a realizzare questa opera imponente. Vorrei fermarmi qui ringraziando davvero tutto il mondo che intorno a Treccani consente all'Istituto di portare avanti quella che è una sua missione. voglio davvero ringraziare Roberto Cicutto per la sensibilità straordinaria, per la vitalità, forza e intelligenza che sta dando a questa sua esperienza di Presidente della Biennale, ripensandola e dando forza soprattutto a luoghi come questo che ci ospitano. E quindi davvero grazie. do la parola a Vincenzo Trione che con Valeria appunto è uno dei due direttori che accompagnano questa presentazione. Ringrazio il direttore generale Massimo Brai non solo dell'introduzione ma soprattutto del coraggio visionario col quale nel lontano oramai 2016 ha creduto, ha sostenuto, ha pensato il progetto di un'enciclopedia dell'arte contemporanea progetto assolutamente, lo dicevamo stamattina, inedito non solo nel nostro paese ma a livello internazionale. Io proverei a fare una breve riflessione su una aporia, una contraddizione che è alla base di questo progetto e di un progetto enciclopedico ovvero una riflessione che ci porti a ragionare su un gioco di spinte e controspinte che ci agisce. Da un lato nel nostro tempo senz'altro prendiamo atto di una crisi delle summe universali. in fondo l'idea di un sapere conchiuso, definito sembra oramai declinato. L'idea che ci sia un luogo nella grande utopia settecentesca possa all'origine di un progetto enciclopedico sembra molto lontano da noi. Il tempo nel quale in un'enciclopedia entravano dei dati mnemonici vigilati da tutti una selezione di conoscenze acquisite l'enciclopedia in fondo era la sintesi delle sintesi l'insieme di sistemi in fondo era espressione dell'utopia della grande durata ed era insieme espressione del bisogno di costruire un'architettura complessiva del sapere del sapere occidentale. È inutile nascondercelo ogni impresa enciclopedica aspira ad essere esaustiva e inclusiva ma è profondamente lo ricordava Argan ideologica selettiva. Parlando proprio dell'idea di enciclopedia so che Stefano Bartezzaghi si soffermerà su questo per ragioni varie ho avuto l'onore dagli eredi di Umberto Eco di curare l'opera omnia dei suoi scritti sull'arte ed è un libro che uscirà tra qualche mese ripercorrendo gli scritti di Eco sull'arte mi sono imbattuto in questa riflessione sull'idea di enciclopedia scrive a Eco l'enciclopedia non è altro che una libreria delle librerie il grande archivio audiovisivo della cultura lo spazio del già detto e poi con un'immagine molto felice diceva è una specie di mappamondo che deve mostrare i principali paesi la loro posizione le loro vicindevoli dipendenze il cammino lungo in linea retta che vi è dall'uno all'altro cammino spesso interrotto da mille ostacoli ecco questa idea di enciclopedia credo che sia una straordinaria utopia che in qualche modo si è allontanata da noi eppure siamo davvero convinti che la mania enciclopedica il bisogno di elaborare enciclopedie sia tramontato questa è la domanda dalla quale siamo partiti e credo che al contrario il nostro sia un tempo attraversato da una sorta di mal d'enciclopedia una sorta di vizio enciclopedico che ci attraversa cosa è il web se non una forma differita di enciclopedia pur non vigilata pur non controllata pur infinita forse io l'ho sempre pensato come una involontaria riscrittura dell'Alef di Borges mi è capitato di incontrare un racconto dimenticato di Italo Calvino intitolato la memoria del mondo è un racconto della fine degli anni sessanta che è perfettamente la previsione di quello che è il web eppure c'è un'altra forma attraverso la quale il mal d'enciclopedia oggi si manifesta che è proprio l'arte contemporanea prima Massimo Brai citava il progetto di Massimiliano Gioni ma io credo che larga parte dell'arte contemporanea sia percorsa da questo bisogno di elaborare enciclopedie senza enunciarlo senza affermarlo in maniera consapevole tanti artisti pensano l'enciclopedia non come metafora ma come genere come tema di indagine come dispositivo linguistico come spazio per tenere insieme tante differenze in fondo pensare enciclopedie significa per un artista costruire delle opere mondo che esprimano quella vertigine della lista cara a eco accanto a questo dunque siamo in un tempo combattuto tra due forze antitetiche tra la fine dell'utopia illuminista e i big data mi ha sorpreso e cito ancora arganna che all'alba della rivoluzione digitale affermava criticismo laico contro dogmatismo ateo e questo il senso dell'attuale contrasto tra enciclopedia e banca dati 1984 in tempi assolutamente nei quali gli storici dell'arte guardavano con cautela e diffidenza queste tematiche lo scriveva introducendo la sua raccolta delle voci pubblicate per la Treccani su questa soglia dunque si muove il nostro progetto un progetto difficile ardito complesso nel quale ci muoviamo tra diciamo l'aura di infinità e la selezione ogni enciclopedia ha dentro di sé questa intenzione di essere infinita aperta e insieme la consapevolezza di non poterlo essere e dunque dover fare necessariamente una selezione ci sono alcuni criteri ai quali ci siamo attenuti stamattina ne abbiamo dato conto in maniera un po' più diffusa e articolata il dialogo tra l'arte e gli altri linguaggi visuali il rapporto con il mercato ma soprattutto l'idea di pensare l'arte come problema come domanda come interrogazione abbiamo cercato di lavorare di documentare nella maniera più antidiologica possibile le esperienze dell'arte abbiamo cercato di essere i meno sensibili a una serie di pressioni che inevitabilmente ci possono essere abbiamo cioè scommesso su quello che forse è destinato a restare il risultato il risultato è in un in un progetto che chiede di essere visto attraversato interrogato consultato esattamente come si fa proprio col mappamondo di cui parlava eco ma il senso di questo progetto devo dire io mi è capitato in questi cinque anni e più di leggere tante riflessioni sull'idea di enciclopedia ma non posso che tornare alla riflessione affidata da Italo Calvino in conclusione della sua lezione sulla molteplicità in questa riflessione Calvino e qui mi permetto di citarlo evoca il passaggio epocale dalla fase dell'enciclopedia di stampo illuministico e settecentesco all'enciclopedia contemporanea che Calvino definisce come potenziale congetturale plurima dunque un'enciclopedia aperta un'enciclopedia che non vuole chiudere il sapere ma vuole offrire delle piste vuole dare delle indicazioni vuole suggerire dei percorsi vuole offrirsi come un catalogo possibile una cartografia problematica vuole dunque consentire a chi si misura con i paesaggi disomogenee dell'arte contemporanea di trovare dei sentieri privilegiati questa enciclopedia suggerisce dei sentieri privilegiati diceva Calvino e con questo chiudo ogni vita è un'enciclopedia una biblioteca un inventario di oggetti un campionario di stili dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili grazie 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 Vincenzo Trione do adesso la parola a Valeria della Valle che insieme a Vincenzo hanno diretto quest'opera e coordinato il comitato scientifico sì a quanto è stato già detto aggiungerò poche cose il direttore generale dell'enciclopedia dell'istituto dell'enciclopedia italiana ricordava che quest'opera è stata un po' una prova d'orchestra e la parola orchestra in effetti mi è venuta in mente tante volte mentre lavoravamo proprio per la composizione delle voci firmate da tanti autori diversi e diversi anche per storia personale per impostazione anche per ideologia e allora cercare a volte di ridurre almeno in parte le differenze a unità la complessità ai criteri che in ogni modo dovevamo osservare a volte è stato anche difficile un elemento l'ho già ricordato stamattina ma mi fa piacere poter aggiungere altri particolari ricordavo che non sono una storica dell'arte ma sono una lessicografia e lessicografia nella vita fanno i vocabolari e quindi ecco che la mia attenzione il mio compito era proprio quello di controllare che gli aspetti formali di questa enciclopedia fossero coerenti con quei criteri che hanno sempre ispirato le opere della Treccani un aspetto particolarmente delicato e che un po' ci riguarda tutti era la presenza nelle voci della lingua inglese ora la predominanza e la nostra sudditanza nei confronti della lingua inglese è argomento di tutti i giorni se ne parla proprio anche oggi nei quotidiani a proposito di alcuni termini della pandemia purtroppo per il linguaggio che riguarda l'arte e la critica d'arte contemporanea la lingua inglese è molto presente è fondamentale allora come fare ecco il mio compito qui era difficile perché da una parte potevo apparire la come posso dire la purista la la bacchettona che cercava di castrare le possibilità di espressione di chi pensa che quei termini possano essere quelli e solo quelli come in tutte le cose abbiamo trovato sempre una soluzione un compromesso nel senso che si sono lasciati quei termini quelle espressioni della lingua inglese che nella lingua d'arte del linguaggio dell'arte della critica d'arte possono essere quelle e solo quelle traducendole spiegandole quasi sempre o quando ciò non era possibile rinviando e lo diciamo anche nella introduzione rinviandola ad altre opere della Treccani e quindi anche il lettore che si trovasse in difficoltà in realtà grazie al patrimonio lessicografico digitalizzato consultabile facilmente digitando una parola ecco che immediatamente c'è la possibilità di trovare la soluzione a quel termine che non si conosce voglio aggiungere ancora un'altra cosa invece questa era molto così come posso dire terra terra per elevarmi e per non essere da meno rispetto a quello che ha detto Vincenzo Trione quando citava più volte Calvino e qui vorrei fare un altro nome perché è stato un nome che in un certo senso mi ha aiutato a trovare la soluzione per proprio per partecipare come ho partecipato a quest'opera e il nome è quello di Savinio vi racconto che cos'è successo mentre facevamo le riunioni e discutevamo e si parlava appunto di un'opera enciclopedica che però aveva dei criteri particolari proprio nel non voler essere chiusa nel volersi allargare a infiniti campi ora non li abbiamo ripetuti ma è un'enciclopedia dell'arte contemporanea che però contiene nomi e voci che sono del cinema della moda e di infiniti altri campi collegati strettamente collegati con l'arte era come se io sentissi riecheggiare nella memoria una frase un concetto che però non riuscivo a riafferrare però conoscendo la mia come posso dire fedeltà a un a chiamarlo pittore riduttivo insomma posso dire usare una parola che oggi non si usa mai a un genio come Savinio ecco che sono andata a cercare quella frase che avevo appuntato da qualche parte ma che non trovavo più la frase era questa non vi saranno più poeti né pittori o compositori non vi saranno che uomini il cui genio ecco il genio che torna il cui genio sarà capace di afferrare nel tempo stesso tutte le possibilità di realizzazioni ora in due righe a me pare che Savinio avesse detto bene quello che in un certo senso abbiamo cercato di realizzare non ci sono confini tra un tipo di specializzazione attività ricerca e l'altra ci saranno solo uomini che fanno come abbiamo visto proprio poco fa allistimenti realizzazioni usando materiali più vari servendosi di tutte le culture e naturalmente non solo di quella italiana ma voglio concludere questo ricordo personale con quello che è successo dopo allora a un certo punto dico devo nell'introduzione voglio citare questa frase ma questa frase da dove l'ho presa dove viene sapevo ero riuscita a trovare che veniva da un libro di Savinio intitolato anzi da uno scritto di Savinio intitolato la nascita di Venere che risaliva al 1918 ma naturalmente come si fa in questi casi lo dovevo citare bene né a memoria né riprendendolo da un appunto allora cerca cerca non riesco a trovare o almeno poi eravamo in periodo di isolamento e quindi non potevo andare in biblioteca e allora riesco a trovare che chi è che aveva fatto un'edizione con introduzione curatele eccetera della nascita di Venere degli iscritti di Savinio Vincenzo Trione allora ho detto beh allora quel giorno ho detto beh allora vuol dire che anche se non ci conoscevamo anche se ci hanno messo insieme così in base a un'intuizione che però poteva funzionare o poteva anche non funzionare e vuol dire che c'era una sorta di disegno del destino perché così ho potuto telefonare a Vincenzo Trione senti dettami com'è davvero la frase e dimmi soprattutto qual è perché poi in queste cose ci vuole sempre il numero della pagina e perché io era quello che non riuscivo a trovare e quindi ecco che il numero della pagina sono riuscita a trovarla e a fare questa citazione alla quale tengo moltissimo perché mi pare che davvero Savigno rappresenti bene per tutta quella che è stata la sua attività la sua ricerca la sua opera un po' quello che noi abbiamo tentato di fare e concludo proprio così per esprimere la mia gratitudine per la città in cui abbiamo fatto questa presentazione per l'istituzione che ci ha consentito di farla ecco concludo dicendo che sono molto contenta che all'interno di questa opera ci sia una voce dedicata alla Biennale di Venezia alle Biennali e a quello che è stato fatto grazie 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 Valeria della Valle adesso credo sia collegata Melania Mazzucco che non ancora non ancora non è collegata Melania Mazzucco dovrebbe essere probabilmente darei la parola allora a Stefano Bartizzaghi che è qui con noi io sono collegato sì sono qua in questa in questa città fantasmatica in cui c'è da chiedersi appunto se la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho pensato a cosa dire se un'enciclopedia dell'arte contemporanea sia possibile no o sia sostenibile oggi forse bisogna dire sostenibile ovviamente dato che c'è vuol dire che era possibile da un certo punto di vista un po' troppo logico per essermi simpatico ma leggendo dall'inizio non sono andato molto oltre non ho avuto il tempo ma ho trovato subito questa citazione che fa Vincenzo Trione nella sua introduzione che parte citando un libro che si intitola a un attributo che le enciclopedie dovrebbero dare che è l'immortalità ma questo libro è un romanzo è un romanzo peraltro molto celebre di Milan Kundera e questa citazione devo dire dalla mia lettura non l'avevo non l'avevo capito la sua importanza e parla si immagina la storia dell'arte come una strada su cui i pittori si avviano uno dopo l'altro e a un certo punto però questa strada non c'è più quindi questi pittori non sanno più cosa fare il desiderio il desiderio di andare avanti divenne la nevrosi dei pittori scrive Kundera correvano tutti in direzioni diverse intanto si incrociavano continuamente come la folla che gira qua e là per la stessa piazza volevano volevano distinguersi l'uno dall'altro e ognuno riscopriva una scoperta non ancora riscoperta dagli altri questo diciamo mi è molto piaciuto e fin da questa ultima frase il desiderio di distinguersi dagli altri adesso il desiderio di distinguersi dagli altri non riguarda più soltanto gli artisti che si distinguono non ha poi i geni non si parla più di geni perché si parla di creatività che è il desiderio di tutti di distinguersi da tutti su cui i social network diciamo sono la fase acuta di questa cosa e questo dimostra anche quanto sia banale volersi distinguere dagli altri la distinzione tra distinzione e banalità è subito fonte di paradossi ma d'altra parte un'enciclopedia cos'è se non un registro delle distinzioni noi nel nostro discorso comune facciamo qui ho vicino una maestra di versicologia quindi un po' temo però facciamo molta cioè tendiamo a confondere distinzioni e discriminazioni che in realtà hanno lo stesso significato originario ma discriminazione ha preso una connotazione negativa e quindi pare che già fare distinzioni sia come fare discriminazioni ma non è vero le distinzioni vanno fatte e però un'enciclopedia non fa soltanto questo deve fare anche e contemporaneamente la cosa opposta deve anche accomunare cioè noi a un certo punto dobbiamo arrivare a un punto in cui distinguiamo cubisti da impressionisti e distinguiamo quelli e però non distinguiamo tra gli impressionisti in quel momento e rischiamo di prendere Monet e Manet per lo stesso pittore pazienza ci sarà poi un momento in cui li dobbiamo li ridistingueremo e dobbiamo distinguere anche se pensiamo Picasso anche tra gli stessi individui no? l'individuo come l'atomo a un certo punto abbiamo capito che non era non era più un'entità indivisibile e allora quando noi ci lamentiamo delle carenze delle enciclopedie che non sono complete che fanno scelte in realtà ci stiamo lamentando facciamo un lamento secondo me molto peloso cioè nel momento della distinzione ci lamentiamo del fatto che non siano manchi l'accomunamento nel momento dell'accomunamento che manchi la distinzione e tra l'altro c'è un'arte contemporanea a cui si sta dedicando tutta la società che è quella di fare delle categorie e di intenderle come delle scatole diciamo blindate che è come leggere le voci di un'enciclopedia questo possiamo anche imparare da cittadini dall'enciclopedia come se fossero dei testi autonomi e in realtà cioè in inglese si chiamano entry cioè ci dà proprio quest'idea di ogni non le chiamo voci appunto quando l'enciclopedia è collettiva sembra un'opera corale ma sono tutte delle entrate in cosa beh in un labirinto noi ci abbiamo goduto diciamo dell'allegoria borghesiana ma non ci siamo resi conto del tutto o almeno forse non tutti che non è un'allegoria cioè è proprio è letteralmente quella 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 cosa e poi quando dice ognuno riscopriva una scoperta non è ancora riscoperta dagli altri è un altro appunto da tenere secondo me molto presente perché introduce nel mito della linearità del tempo storico introduce il tema dell'oblio che è assolutamente fondamentale e il nuovo quello che si distingue dal 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 solito è sempre un nuovo di ritorno cioè le nuove voci di una enciclopedia sono voci che arrivano da un'altra enciclopedia molto spesso sono allargamenti di prospettive come appunto si accennava fa questa 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 opera vuol dire che c'è qualche oggetto trovato meglio perduto che viene visto da un'altra prospettiva viene messo appunto in un'altra in una nuova relazione in una nuova ambientazione in una nuova combinatoria e viene registrato per quello e questo ci dovrebbe fare sospettare che l'enciclopedia la circolarità etimologica si può leggere in almeno due modi diversi di cui uno conviene poco ma è quello che viene più spontaneo no è quello forse originario è lo stesso circolarità del ciclo scolastico no una cosa che parte e poi chiude un cerchio e quindi così induce l'idea di una di una totalità abbiamo i campi abbiamo i perimetri che li distinguono e questa appunto ogni cerchietto un lemma un nome per ogni cosa e una cosa per ogni nome forse dovremmo chiamarla insiemistica ma è il vecchio pensiero aristotelico e scolastico e da un'idea di il pensiero come una specie di isola ecologica in cui noi conferiamo le cose nel giusto cassonetto no le identifichiamo e le hai messo lì e non le hai messo là e si distinguono appunto le etichette con l'idea appunto che uno dice questo è lineare e pittorico no è molteplice o unico che sono categorie diciamo che sono prese in modo assoluto per la semiotica questo non è così si possono articolare cioè c'è un'idea tensiva di questo invece l'errore è quello di pensare appunto di stare attenti a non mettere le forme aperte e non conferirle nel cassonetto delle forme chiuse perché dopo ti danno una 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 multa e in realtà abbiamo una diversa circolarità e la circolarità dei pittori che non sanno più dove andare e continuano a incontrarsi dentro alla alla piazza e la circolarità delle relazioni e con questo facciamo quel passaggio che Margherita Yorsenar poeticamente diceva bisogna passare dal nuotatore all'onda no dall'individuo alle forze che ci determino e quella cosa per cui i gradi di separazione di cui parliamo in realtà sono anche gradi di unione cioè è tautologico dirlo il problema è che nella distanza la distanza è il il concetto sovraesteso che tiene anche la vicinanza noi non possiamo dire sono vicino due centimetri si dice sono distanti anche quando si è vicini ma quando c'è una relazione si è già sia distanti che ravvicinati e allora a quel punto l'idea di enciclopedia è un'idea in cui si prendono queste relazioni e più che l'idea dell'omnia circunspicere e quindi cogliere la totalità di un sapere è l'idea del singola enumerare e quando parti da lì quando trovi i singoli li metti in relazione ora io dico queste cose per una ragione abbastanza semplice se parlate di Eko sono l'autore della voce che i direttori hanno voluto dedicare a Umberto Eko e anche a quelle sue attività di vicinanza all'arte contemporanea che hanno avuto credo che sono una cosa meno nota fin quando non uscirà il libro preparato da Vincenzo che bisogna abbiano molto influito in realtà molto più di quanto non si sospetti sul suo pensiero io al secondo anno di università ho seguito un suo corso intitolato il dizionario contro enciclopedia in cui tra l'altro riformulava una voce dell'enciclopedia e in Audi che l'aveva già pubblicato erano gli anni in cui faceva la cacopedia e in effetti l'enciclopedia delle arti contemporanee potrebbe sembrare una di quelle scienze urbanistica nomade le cose che lui si divertiva a inventare ma la suo concetto di enciclopedia era un concetto lui diceva non c'era l'enciclopedia in carne e ossa usava questa buffa metafora ma lui pensava come modello del salpere e era un modello in cui la conoscenza della lingua non poteva essere separata dalla conoscenza del mondo questa è la contestazione delle semantiche invece a dizionario e funzionava perché ogni segno di qualsiasi tipo veniva definito da qualcosa da degli interpretanti che sono degli altri segni cioè c'è un'idea di rimando continuo è per questo che forse l'arte contemporanea è davvero il campo ideale paradossalmente nella difficoltà del pensare ma il campo ideale è per smentire due principi che oggi ci sembrano a volte invece nel chiacchiericcio contemporaneo ci sembrano inconfutabili e sono che uno che un'enciclopedia è un oggetto impossibile e l'altro che ci sia già è appunto sia il web perché perché sono due posizioni che non tengono conto proprio di quell'idea dell'oblio cioè posturano il tempo come una specie di deposito e lì veramente la banca dati di Argan un deposito di stensione infinita di materiali immagazzinati senza un'etichetta senza un codice di riconoscimento che possiamo soltanto cominciare a catalogare senza mai finire di farlo in realtà invece l'enciclopedia come sistema di interpretanti e cioè di rimandi è l'unico modo in cui noi possiamo percorrere questo labirinto polidimensionale senza la pretesa ovviamente di esaurirlo senza minotauri da uccidere e seguendo semplicemente il filo della scrittura grazie grazie Stefano darei adesso la parola a Maurizio Ferrari prima sentirei un attimo Vincenzo perché mi sembra doveroso nei ringraziamenti che abbiamo fatto a questo appunto corpo di redattori consulenti e enciclopedici ringraziare molte competenze alcune delle quali sono qui presenti sì direttore ci sono alcune intanto sono collegati la gran parte dei consulenti d'aria sono vado a memoria circa 25 tra consulenti di aree tematiche di aree geografiche però in sala con noi ci sono vado in ordine Silvia Burini Mario Sartor la dottoressa Mondini Simone Ferrari Luca Massimo Barbero era collegato è venuto stamattina e quindi visto che sono con noi vi ringrazio è l'occasione anche per ci siamo sentiti visti in diverse occasioni però mi fa molto piacere ci fa molto piacere che siate in questa occasione presenti grazie e quindi adesso dovremmo sentire Maurizio Ferraris che è collegato è uno degli autori di questa opera e siamo come dire contenti che sia con noi seppur in remoto buongiorno ci sente? forse mi sentite adesso ecco grazie per fortuna dicevo che mi spiace di non essere con voi sia per ragioni altruistiche che mi fa piacere vedervi egoistiche perché mi piacerebbe essere a Venezia ma comunque si fa quel che si può io cercherò di riassumere con dieci parole chiave visto che c'è un tempo giusto appunto limitato e questo anche del limite è un dato molto importante perché le voci dell'enciclopedia se sono dell'enciclopedia cartacea hanno un limite questo è significativo perché il limite impone un valore una sintesi mentre le enciclopedia online potrebbero essere anche lunghe diecimila pagine e in effetti troviamo delle voci di enciclopedia strepitosamente lunghe su dei perfetti sconosciuti e questo in fondo potrebbe dare un'immagine dei nostri valori della nostra cultura non leggibile ai posti ma comunque parto vorrei mettere a fuoco appunto qualcosa della battaglia se così si può dire tra un'enciclopedia in particolare questa enciclopedia e l'idea che tanto l'enciclopedia c'è già e del web la prima parola chiave è quella di automazione nel senso che in fondo dobbiamo considerare come l'arte l'arte contemporanea quella di cui si occupa questa enciclopedia è stata la prima delle attività umane creative che si sia imbattuta abbia dovuto fare i conti con l'automazione perché nell'ottocento viene inventata la fotografia e quindi cosa fai? Non c'è più una ovvia definizione dell'arte a ben vedere molto prima che si forse i telai ma molto prima che in tante altre manifestazioni il ruolo dell'automazione all'interno di una disciplina di un'attività umana è stata particolarmente nell'arte la cosa interessante è che questa enciclopedia non parla di un'enciclopedia della fotografia ma dell'arte e se parla di fotografia è all'interno dell'arte il che vuol dire che nella lotta tra i fotografi e gli artisti hanno vinto gli artisti e credo che questa possa essere anche la giustificazione un buon argomento per pensare che nella lotta tra l'enciclopedia web e l'enciclopedia non più tradizionale ma comunque cartacea l'enciclopedia con tre cani vincerà la tre cani perché perché si tratta ovviamente di inventare qualcosa di diverso non puoi più fare le cose standard nel senso che lo standard ti viene già offerto al web in particolare adesso non sto a dire le cose le cose più ovvie cioè il fatto che il web c'è una bella differenza tra il web è un'enciclopedia già a prima vista dal momento che un'enciclopedia è qualcosa che viene pensata secondo una regola mentre il web non è pensato secondo una regola anzi il suo significato fondamentale è quello di non essere pensato secondo una regola ci sono dei pregi e dei difetti dentro a questo indubbiamente però questo fa sì che quello che noi chiamiamo enciclopedia sul web sia qualcosa di profondamente radicalmente differente sia dalle enciclopedie pre web sia da queste nuove enciclopedie che nascono dopo il web o per dire così durante il web si è parlato del lemmario il lemmario è già un criterio di scelta di determinazione di cernita di canone quindi c'è questo elemento fondamentale dentro all'enciclopedia che manca dentro all'enciclopedia web nessuno decide sui sui lemmi ogni tanto troviamo su wikipedia che di qualche d'uno che compare dentro un lemma non esiste ancora la voce prima o poi questo qua verrà messo dentro all'enciclopedia perché boh chi lo sa semplicemente qualcuno ha trovato il tempo per riempire questa voce niente di tutto ciò si dà dentro all'enciclopedia cartacea perché appunto l'enciclopedia cartacea deve nascere secondo un piano deve contemplare delle assegnazioni e per inciso queste assegnazioni contemplano anche dei ritardi nelle consegne immagino che ne sappiano qualcosa i redattori dell'enciclopedia mentre non mi consta che ci sia nessuno che sia lamentato del ritardo di consegna di qualche voce di wikipedia e inoltre queste voci hanno anche la caratteristica come dicevo all'inizio di avere una certa lunghezza e la lunghezza è anche un criterio di riconoscimento come nell'arte bizantina l'imperatore più grande del suo vassallo così la lunghezza di una voce segnala anche il significato la significatività culturale di ciò che è compreso dentro questa voce quindi io credo che già da questo punto di vista sia molto facile distinguere l'enciclopedia o meglio la neo-enciclopedia perché tutte le enciclopedie che nascono dopo il web sono delle neo-enciclopedie cioè delle enciclopedie che tengono conto del web proprio come tutte le arti visive che sono nate dopo la fotografia sono delle arti d'avanguardia perché tengono conto della fotografia come strumento per la semplice riproduzione del reale quindi ci sono già questi elementi che sono estremamente significativi estremamente differenziati rispetto a quello che è il web quindi sono già due cose anche lasciando da parte il fatto che il web in grandissima parte non è fatto di dati semantici di cose che significhino di per sé in un linguaggio naturale ma è fatto di dati sintattici di cose che significano soltanto per delle macchine ma questo è un altro discorso anche restando all'interno di ciò che morfologicamente appare affine alla enciclopedia del senso tradizionale e quindi faccio ovviamente l'esempio alla meritoria wikipedia c'è già una differenza radicale cioè non c'è un lemario quindi non c'è un progetto non c'è una lunghezza quindi non c'è un valore e non c'è neanche una canonicità perché bisogna prendersi c'è qualcuno che decide di mettere una certa voce all'interno dell'enciclopedia in un numero finito di voci ci sono ancora tre motivi di distinzione fra le neoenciclopedie e questa neoenciclopedia in particolare e le enciclopedie web il primo che può apparire paradossale è la novità mi spiego dentro a questa enciclopedia dell'arte non troviamo quello che ci si immaginerebbe dentro un'enciclopedia dell'arte o meglio troviamo molto di più di quello che ci si immaginerebbe nell'enciclopedia dell'arte perché troviamo anche appunto la moda troviamo i fumetti troviamo il cinema tante cose che se ci fosse un'enciclopedia dell'arte fatta da wikipedia queste voci non sarebbero lì perché il senso comune che è quello che regola le enciclopedie sul web non ha ancora inserito questi aspetti all'interno di ciò che è arte spetta invece agli specialisti decidere e promuovere l'inserimento di certe novità all'interno di un ambito e quindi solo un'enciclopedia fatta da specialisti e concepita secondo un progetto può prendere la decisione di inserire al proprio interno appunto la moda o il cinema o i fumetti un secondo aspetto è quello della totalità perché è chiaro ogni enciclopedia coltiva il sogno impossibile di una totalità però io credo che nessun enciclopedista anche il più folle abbia mai pensato che la propria enciclopedia sia davvero la rappresentanza della totalità è semplicemente qualcosa che si avvicina ad una competenza interdisciplinare che nessun essere umano potrebbe normalmente avere tant'è che c'è una bellissima definizione dell'enciclopedia data da Borges che dice che in definitiva la caratteristica dell'enciclopedia è di essere infinitamente più colte di qualunque dei compositori dei lemmi dell'enciclopedia è ovvio perché chi scrive dei lemmi dell'enciclopedia per colto che sia non la salunga quanto l'enciclopedia e di nuovo questo effetto di totalità non è qualcosa che si possa ottenere sul web si può ottenere soltanto all'interno di un'opera che ha un inizio e che ha una fine ho quasi finito non preoccupatevi l'ultimo l'ultimo elemento distintivo che sembra sciocco persino ricordarlo è la durata cioè considerate che io non so noi non sappiamo bene che cosa succederà al web nel tempo sicuramente molti dati si salveranno molti si trasformeranno per inciso le voci dell'enciclopedia online sono continuamente modificate e aggiornate quindi non sono un'entità stabile mentre non è possibile pensare che se qualcuno decidesse di fare una piramide e di metterci dentro l'enciclopedia dell'arte qui che stiamo presentando potrebbe trovarla anche dopo 4.000 anni credo del resto che sia stampata su carta di buona qualità bisogna che sia conservata in spazi opportuni niente di tutto questo si può dire rispetto al web e quindi come dire questo questo genere di durata che effettivamente è la trasmissione di qualcosa che si presenta come implicitamente storico cioè di molto antico per me della Treccani e chiudo su questo ricordo personale è stato qualcosa di molto vivo e vissuto dal momento che ho distrutto da bambino i dorsi dell'enciclopedia Treccani di mio padre perché con le dita cercavo di saltare leggevo questa enciclopedia il mio povere compianto padre ha dovuto poi dopo farla rilegare di nuovo ma comunque trovavo bellissima questa enciclopedia soprattutto perché manifestava qualcosa di antico di desueto di remoto e di autorevole niente di tutto questo può essere rappresentato dal web ovviamente perché ha altri meriti però uno può immaginare che ci sarà qualche bambino di fra 4.000 anni posto che si parli ancora italiano cosa che non è detto che leggerà questa enciclopedia dell'arte e si stupirà di che cosa facevamo oggi grazie grazie davvero il mondo Treccani ringrazia particolarmente e chiederei adesso a Melania Mazzucco se è collegata di intervenire eccola ciao Melania buongiorno a tutti io mi scuso se sono in collegamento con il cellulare ma sono i misteri dei portatili che oggi non voleva darmi la presenza video quindi mi sono dovuta attaccare al cellulare mi dispiace molto naturalmente anche a me di non essere lì perché sono particolarmente affezionata al progetto di cui stiamo parlando perché si è realizzato all'istituzione Treccani che mi ha visto entrare insomma poco dopo la laurea nel ruolo di umile redattrice ho imparato tantissime cose e quindi sono la città di Venezia naturalmente che è la mia seconda patria quindi avrei dovuto e voluto essere lì e poi anche per omaggio a Trione di cui ho grande stima da tanto tempo e ho seguito insomma questo progetto visionario direi fin dalla dalla nascita io anche dirò pochissime cose anche perché so che quando si parla da remoto insomma è meglio essere molto brevi quello che mi ha affascinato all'inizio diciamo quando ho sentito parlare per la prima volta dell'idea di fare un'enciclopedia dell'arte contemporanea è la vocazione insomma di Trione verso una sperincolata direi vocazione enciclopedica che che ha generato quest'opera come poi molte anche delle dei lavori che lui ha fatto sul contemporaneo la sfida principale mi è sembrata quella una sfida molto letteraria nel senso che quest'opera io credo che voglia essere una specie di mappatura del cielo è una uso una metafora astronomica fondamentale perché in fondo solo in questa disciplina si può concretamente parlare non so di stelle morte che continuano a irradiare luce nel presente di stelle potenziali di stelle che nascono ecco cercare di mappare il cielo dell'arte contemporanea vuol dire fare una mappa del presente vuol dire creare un arco di tempo nel quale noi riconosciamo al quale diciamo noi ci sentiamo legati e nello stesso tempo non vogliamo chiuderlo e questo mi ha fatto pensare a una bellissima frase di Mandelstam che diceva che costruire il suo progetto era quello di costruire la letteratura non come un tempio ma come una stirpe ecco in qualche modo chi si accinge all'impresa di fare un'enciclopedia e in questo caso un'enciclopedia del contemporaneo sta cercando di creare questo una stirpe alla quale sentiamo di appartenere da cui sentiamo di discendere e quindi di lasciare qualcosa poi per coloro che verranno dopo di noi la prima cosa che mi stimola insomma in un'impresa del genere è l'idea di creare un enorme labirinto ne avete sicuramente già parlato insomma della quantità di voci autorevolissime di diverse discipline di diverse formazioni che contribuiscono a scrivendo le varie le varie voci come sempre è naturalmente in un'enciclopedia contribuiscono a creare una sorta di polifonia che però è anche una strada che ci guida dentro questo questo labirinto e lavorare e ragionare sull'emmario che è l'impresa che fa il curatore e con tutte le persone dell'equipe insomma che forma intorno a sé significa esattamente questo creare una mappa e trovare le voci che permettano poi in questo labirinto che si va costruendo di non perdersi ma al contrario di ritrovarsi la seconda sfida che c'è in parte la diceva adesso il professor Ferraris è quella del limite che anch'io trovo straordinario perché qui c'è un limite di due tipi il primo è un limite formale delle voci dell'enciclopedia che hanno una misura che hanno anche una forma perché bisogna poi questo è il grandissimo lavoro di tutta la redazione uniformare creare una voce cioè ogni enciclopedia Treccani di fondo ha una sua voce che è poi la voce del tempo nella quale essa viene realizzata quindi questa enciclopedia parla dell'arte contemporanea ne parla oggi come tutti noi abbiamo scritto qualcuno molto qualcuno poco però siamo anche parte dello stesso coro e quindi l'enciclopedia è datata in questo senso ed è il suo limite temporale anche un valore secondo me l'altro concetto di limite quindi non è soltanto quello della formale insomma delle singole delle singole voci che vengono scritte è per me il limite del tempo chi ha lavorato alle enciclopedie in qualunque forma come in parte ho fatto anche io sa benissimo che il progetto nasce cresce ha bisogno di tempo molto tempo a volte in questo caso anche abbastanza miracolosamente poco direi per l'ambizione che c'è dentro questo progetto e il suo limite temporale è che chi lo immagina un'enciclopedia deve immaginare anche il momento in cui inizia di che cosa parlo quando comincia il contemporaneo quindi comincio a creare una traccia nel tempo però anche dove mi fermo perché mappare il presente implica delle scelte molto radicali devi decidere che cosa secondo te andrà nel futuro quindi è un'impresa in un certo senso titanica secondo me insomma chiunque si confronti con il contemporaneo in qualsiasi disciplina sa che questo del limite del tempo è probabilmente la sfida principale che deve accettare l'altra cosa ovviamente di cui avete già parlato e quindi sulla quale cercherò di dire il meno possibile è proprio il rapporto con la fluidità del web quindi la sfida di un'enciclopedia che nasce cartacea poi probabilmente diventerà anche questa insomma parte dei saperi che influiscono nella rete è quello di dover coniugare due movimenti apparentemente antitetici da una parte la stabilità la stabilità anche monumentale che hanno tutte le opere della Treccani chiunque di noi abbia avuto nella sua casa un'enciclopedia Treccani ne conosce la funzione quasi strutturale a volte diventa un elemento della casa diventa parete diventa muro essa stessa quindi come se si scrivesse su pietra in qualche modo ma questo potrebbe oggi nel mondo in continuo movimento dell'immateriale essere un grande limite invece l'idea di lavorare sul contemporaneo accetta la sfida del movimento quindi io credo che poi un'enciclopedia e un'enciclopedia del contemporaneo come questa sarà anche un'opera aperta in qualche modo perché vorrà accompagnare il movimento e credo che questa sia poi un po' la sfida anche della Treccani come istituzione quindi continuare a ragionare sulla carta la carta come pietra e però non come monumento quindi come un'opera in continuo divenire anche perché l'arte è in continuo divenire quindi credo che queste siano le sfide principali affrontate dall'istituzione dal curatore nel mettere in piedi tutto questo e poi la sfida minori che ciascuno di noi che si è trovato ad affrontare nel momento in cui è stato chiamato a scrivere una voce è pensare a questa cosa cioè scrivere la voce all'altezza del tempo nel quale la stiamo realizzando però provando a indicare anche le strade che l'arte sta prendendo nel futuro che ci appare completamente un'incognita per certi versi anche misteriosa temibile in qualche modo e quindi a lasciare aperte aperte le opzioni e le possibilità dunque penso che la chiusura momentanea diciamo così dell'impresa sia sempre un traguardo straordinario di cui mi insomma mi congratulo perché quando si avvia un progetto del genere chi sta dentro anche sa benissimo che la strada è molto impervia è molto difficile io credo che sia un'opera di cui la Treccania andrà andrà orgogliosa perché appunto nel labirinto nel quale ci stiamo tutti addentrando con l'impressione di aver perso di avere perso il filo insomma che ci guidi verso l'uscita questa è un'opera labirintica che però ha una visione molto lucida e dunque ci guida forse non verso l'uscita ma verso il centro verso il cuore di quello che è in questo momento il fare delle arti ecco grazie 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 Melania Mazzucco e adesso chiederei l'intervento di Francesco Vizzoli visto che sono l'ultimo sono rapidissimo se no vi annoio non mi metto nemmeno in competizione con questi interventi perfetti di pensieri e parole parlerò un po' darò un taglio autobiografico insomma questo ricordo di me mi verrebbe da dire bambino perché penso di avere 30 anni invece ne ha molti di più e sono a Londra sono a un tavolo dentro un cantiere sono con il mio gallerista di allora Anthony Doffey che era l'autorità europea forse mondiale dell'epoca poi c'è un ministro sufficientemente fluido del cabinet inglese Peter Mandelson e si discute la costruzione della Tate voi pensate la Tate della seconda no no si discuteva ancora quella la prima e io ero lì portato come mi si concede la parola outsider meglio dire lo sfigato della galleria c'è di sicuro l'artista meno importante a vedere la creazione di questa nuova grande cattedrale per l'educazione che avevo ricevuto i conti mi tornavano gallerista con cappotto grigio consunto che mangiava solo vegano ministro fluido quanto bastava architetti di grido grande intelligenza cultura costruzione di una cattedrale per l'arte contemporanea i conti tornavano il signor Doffey un giorno decide di chiudere baracca e burattini unto dall'olio del signore vengo preso dalla galleria Gagosian che non certo per miei meriti ma sicuramente per meriti di ottime consigliere e consiglieri inizia un hash d'or quindi per esempio mette sotto contratto il già anzianissimo John Richardson che stava concludendo i suoi ultimi anni a New York facendo l'accompagnatore per signore e possibilmente le mogli dei petrolieri texani più ricchi sulla piazza e lui lo mette direttamente a contratto per svariati milioni perché Curi pescando qua e là dalle varie eredità Picasso che fossero quelle di Bernardi Paloma eccetera mostre meravigliose che finalmente sdoganano il povero Gagosian e così anche il New York Times di fronte a queste file infinite e a tutta questa cultura e a tutta questa storia urla al miracolo e dice anche un gallerista ricco avido e rapace può produrre pensiero e anche qui i conti mi tornavano una specie di catarsi una favoletta del dottor Scrooge pseudo natalizia tutti felici anche la Roberta Smith che quindi può entrare da Gagosian senza avere troppi sensi di colpa poi diciamo da lì i conti iniziano a tornarmi lentamente un po' di meno chiaramente conosciamo tutti non fatemi ripetere banalità globalizzazioni fiere che si espandono tutto che diventa un franchising come Benetton diciamo negli anni 70 e 80 quindi maglioni colorati dappertutto che quindi la fiera Frise diventa Londra Los Angeles New York per ampliarsi su questi livelli si associa con la gente di cinema più importante in quel momento tra tutte le agenzie amministratore delegato della più importante di quel momento di Hollywood insomma tutti i poteri si intersecano per portare la plutocrazia verso appunto questa doccia purificatrice dell'arte contemporanea e tutti sono molto felici vanno a queste fiere c'è anche Brad Pitt c'è anche Leonardo Di Caprio però non gli attori più scemi che ovviamente farebbero calare di tono tutta la situazione tutti si sentono molto contenti però per me il tasso del caos aumenta e magari qualcuno lo vuole negare ma il caos è oggettivo cioè iniziano a proliferare non solo gallerie fiere artisti produzioni libri case editrici che prima erano molto rarefatte invece sfornano volumi come pizzette diciamo i sistemi valoriali intellettuali curatoriali e anche finanziari diventano 4 6 8 10 100 1000 e sono tutti oggettivamente in contrasto e che nessuno si prende il tempo o la briga anche forse non essendo fluente in lingua cinese o in lingua araba di andare a leggere tutta questa quantità di flusso di informazioni non solo del web che sarebbe come avete già sottolineato voi ma questo flusso di informazioni arriva da tutti cioè quello che dice Artforum è assolutamente in antitesi con quello che dice Robert Storr a Yale ed è in antitesi con quello che pensano le due curatrici super politically correct della Tate e a tutto questo si oppone ulteriormente un sistema strettamente finalizzato al profitto gallerie prestigiose si appropriano di eredità artistiche di artisti rarefatti coltissimi ormai defunti che se sapessero che le suddette gallerie fanno dei presti di lì quando la regina Elisabetta si degna di andargli a visitare e si li porterebbero nella tomba insomma un caos enorme scoppia il covid dettaglio drammatico triste tragico non certo insignificante ma non sembra che questo caos si fermi sempre per rimanere non in pensieri astratti o filosofici ai quali io non faccio come dire captazio benevolenza ma semplicemente non sono all'altezza l'altro ieri per la mostra che ho fatto a Brescia palcosceni archeologici viene organizzata una conferenza abbastanza simile a questa dove come li chiamerebbe l'insostenibile Salvini professoroni parlano quindi vado a studiarmi le loro biografie terribili Oxford Stanford e il mio amatissimo Settis che li vedo come un'entità quasi sacra che mi protegge e ovviamente ognuno ha una sua agenda il professore che parla da San Francisco da Stanford dice che io sono colui che fa il queering up della classicità quindi frocizzo la classicità e fa tutta una tirata su questo mi vogliono tutti bene mi fanno dei complimenti l'altra invece ne fa tutta una questione di tipo evidentemente razziale parla da New York il professor Settis cerca di riportare tutti a una santa ragione mentale di fargli capire che le statue venivano già dipinte prima che me le ero inventato io né per renderle più gay né per renderle più inclusive da un punto di vista etnico insomma questa mia idea di caos parola pirandelliana alla quale io sono molto affezionato appunto prosegue pertanto l'unica cosa che mi sento di dire è che quando Trione mi ha telefonato e senza tanti giri di parole mi ha detto voglio fare l'enciclopedia o qualcosa di simile l'enciclopedia era già fatta eccetera mi ha detto di dare un contributo parola quanto mai tabù estetico io ho detto subito il motivo è molto semplice e non inclusivo ma conclusivo e definitivo il buon Trione vuole fare una cosa e la Treccani chiaramente insieme a lui che lo sostengono assolutamente fuori dal tempo fuori dal mondo è un gesto c'è l'idea di fare un'enciclopedia che nasce come oggetto cartaceo oggi è un gesto di Ubris talmente barocco talmente talmente dissonante anche dalla tua presenza fisica che è così discreta diciamo che è qualcosa che va oltre Maria De Filippi va oltre l'Eurofestival cioè proprio cioè è più dei maneschi non so come dire ecco quindi io ovviamente ho immediatamente aderito perché mi sembrava che fare un'enciclopedia di arte contemporanea oggi e cercare di fare il punto in una situazione veramente così profondamente filosoficamente eticamente moralmente confusa fosse un gesto veramente stravagante quindi evviva grazie 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 Francesco credo tra l'altro la voce Francesco Vilsoglio ovviamente è nell'enciclopedia affidata a Luca Beatrice devo dire per me personalmente è importante questo pomeriggio mi capi di dire spesso che si parla troppo poco di enciclopedie quindi devo ringraziare soprattutto e ancora una volta Roberto, presidente della Biennale che ha accolto queste riflessioni questa mattina ho citato Tullio Gregory che era realmente uno degli ultimi enciclopedisti che abbiamo avuto e devo dire che alcune categorie che Maurizio Ferraris ha ripreso mi sembravano molto familiari in quello che in Treccani si è detto delle enciclopedie un lemmario ci costringe alle scelte io ho avuto la grandissima fortuna di parlare moltissime volte con Gregory soprattutto nei suoi ultimi anni e questo ci costringe ci diceva diceva sempre Gregory l'enciclopedia è davvero qualcosa che tu devi misurare come qualcosa che non ha nulla a che fare col presente un po' Francesco Vezzoli lo ha detto il rigore scientifico era la sua seconda categoria e qui pensiamo a quanto ormai giornali ogni giorno parliamo solo di fake news eppure il neologismo che conia l'Oxford Dictionary è proprio post veritatem e quindi entriamo in un'epoca in cui è difficilissimo riconoscere la verità un'enciclopedia deve tendere a far questo come? affidandosi a ricercatrici a ricercatori che sappiano appunto fare il punto su quella voce la lunghezza è un'altra cosa importante lo ha detto Maurizio Ferraris forse rispetto a un'enciclopedia digitale l'enciclopedia deve avere un rigore anche nelle voci la voce Aristotele non potrà essere lunga quanto quella di un pur bravo pensatore che come dire è forse assegnato di meno la nostra storia il valore storico ha detto Maurizio Ferraris delle voci a me capita ogni tanto di leggere ieri per esempio ho sfogliato le voci globalizzazione credo che ne abbiamo più di dieci in banca dati treccani affidati spesso ad autori differenti e uno riesce attraverso la ricostruzione dell'anno in cui sono scritti a capire a contestualizzare anche un momento particolare rinascimento di Chabot se vi capitasse di leggerlo oggi e questa è la doppia valenza diceva Gregory Rita Levi Montalcini voleva che io gli leggessi sempre e spesso la voce Sistemi Omeopatici che è una delle voci del primo nucleo di voci della grande encilopedia quindi più o meno siamo tra il 32 e il 33 e mi diceva guarda quanto è moderna questa voce perché a scriverla è stato uno dei più grandi studiosi di farmacologia un italiano ecco tutto questo si concludeva nelle parole di Gregory che l'ho ripetuto questa mattina dicendo che Treccani non si saprà mai chi realmente ha pensato un'opera e questo era il famoso grigiore che Gregory amava moltissimo perché sono opere collettive sono opere in cui l'individualismo e il protagonismo rimangano a casa diceva Gregory noi siamo una comunità e come tale ci dobbiamo presentare al servizio del paese questa è un'altra cosa bellissima se poi non siamo di moda non fa niente le encilopedie diverse qui citavo anche alcuni autori che avete ricordato lasciamoli stare non dureranno nel tempo era molto severo Gregory però credo che in alcune di queste osservazioni ci sia molto la lettura proprio della contemporaneità mi colpisce infatti l'incontro che ho ricordato con Gioni quando lui immagina questo palazzo enciclopeico che credo dovesse essere di 136 piani alto 700 metri nel centro di Washington in ogni stanza ci doveva essere un concetto che ci avrebbe guidato nella lettura del mondo contemporaneo credo che nei suoi limiti ma anche nel suo grande valore quest'opera ci guidi nel leggere quella che oggi è l'arte contemporanea grazie a tutti grazie ancora al presidente della Biennale questo era uno degli appuntamenti e l'archivio storico e quindi grazie a tutto il personale che ci ha permesso di essere qui grazie applausi grazie a tutti